L'arteografa è una passione interna che nasce dentro di te che poi con il tempo l'esperienza si trasforma e diventa un qualcosa che ti dà la soddisfazione di fare un mestiere che ti rende felice. L'ispirazione per i miei gioielli nasce da una mia emozione, da quello che mi circonda, da un'idea, da un desiderio di una mia cliente o anche semplicemente il mio desiderio di voler fare un gioiello che nessuno ha mai pensato e mai fatto. Originale come un gioiello d'artista.